Una visione programmatica d'insieme del Centro Storico di Arezzo costruita con i cittadini, una visione della parte storica della città a 360 gradi, è quello che chiede il Partito Democratico Aretino. Sì, lo fa a 360 gradi perché abbiamo, grazie a degli incontri e delle riunioni fatte tra gli iscritti e la cittadinanza, abbiamo proprio avvertito la necessità di indagare in maniera ampia le problematiche del Centro Storico, uscendo anche dal Centro Storico, quindi non è possibile ripensare un Centro Storico funzionale senza ripensare la città intera. Quindi quello che è l'obiettivo di questo questionario che da oggi è online è proprio quello di avere una visione, di ampliare la visione verso tutta la città chiedendo a tutti i cittadini per rivedere e ripensare e rimmaginare un Centro Storico che funzioni, che sia organizzato insieme a tutto il resto della città però. Non c'è una visione della città di conseguenza neanche di un Centro Storico. I provvedimenti che vengono adottati come il caro parcheggio non si accompagnano poi, come abbiamo visto tutti, a dei trasporti pubblici efficienti. Di conseguenza dicono sì, aumentiamo i parcheggi nel Centro Storico perché in tale modo invitiamo ad adottare dei mezzi pubblici ai cittadini, non recarsi in centro in macchina, ma invece poi i trasporti pubblici non vengono adeguati a quelle che sono le esigenze. Noi innanzitutto proponiamo l'ascolto effettivo della cittadinanza, con penetrazione più possibile nella stessa, anche attraverso quelli che sono tutti gli attori che vivono il Centro Storico e che devono in qualche modo incidere su quelle che sono le politiche del Centro Storico, come ad esempio i residenti ci segnalano di non avere dei parcheggi. Comunque sia il Centro Storico ha dei problemi anche che sono verificati di disturbi della quiete soprattutto al fine settimana. In qualche modo un Centro Storico più vivibile deve essere assicurato. Quindi voi proponete un percorso partecipativo? Sì, a tutti i livelli. Pensiamo che la partecipazione sia uno strumento fondamentale che consentirebbe, se venisse attuato, delle scelte migliori da parte dell'amministrazione comunale. Faccio l'esempio del percorso che l'amministrazione comunale ha attivato per noi tardivamente e quello relativamente al futuro della Cadorna. Ecco, partito ora il percorso partecipativo ma le scelte fondamentali l'amministrazione comunale le ha già prese e mi riferisco nello specifico al fabbricato che dovrà ospitare il nuovo Centro per l'impiego che sarebbe quello dell'ex Palazzina Comando. Per quello l'amministrazione comunale aveva partecipato ad un bando, il Pinqua, lo ha perso, ma nonostante questo continua a voler investire molte risorse del bilancio comunale per rimettere a posto quel fabbricato. Ma quel fabbricato non è detto che debba essere ricostruito lì, potrebbe essere ricostruito anche lungo via Garibaldi, riproponendo la cortina che era in precedenza negli anni antiguera. E quindi questa scelta, come altre, secondo noi devono essere condivise con i cittadini e non imposte l'amministrazione comunale.